Siamo la Casa Internazionale delle Donne di Roma, centro propulsore della cultura e dell'azione politica delle donne. La struttura sorge all'interno di un complesso che nel 600 era centro reclusorio delle donne, dunque un luogo di sofferenza e di prigionia. Nel 1983 è stato destinato a finalità sociali, con particolare riguardo alla cittadinanza femminile, dunque stravolgendo completamente la natura del luogo. Occupato poi nel 1987 dal movimento femminista romano, che ha iniziato una lunga trattativa con il Comune di Roma per ottenere il restauro e la consegna dell'edificio all'associazionismo femminile. Dal 2002 ad oggi la Casa Internazionale delle Donne è teatro di moltissime iniziative dal punto di vista politico, sociale e culturale, che hanno come protagonista la donna, o meglio, la condizione della donna in diversi ambiti. Abbiamo chiesto qualcosa di più su cos'è oggi la Casa Internazionale delle Donne. La Casa Internazionale continua il suo progetto, quel progetto che è nato negli anni 70, al sorgere del femminismo, del neo-feminismo, e che praticamente consiste nel fatto che le donne diventano soggetti attivi, prendono parola, esprimono la loro visione del mondo, le loro pratiche, che sono soprattutto pratiche di relazione e di nuove parole, nuovi metodi, come dice Virginia Woolf, per descrivere il mondo e per stare nel mondo. Naturalmente questo ha un carattere fortemente dirompente, come l'ha avuto negli anni 70, ed ha avuto anche degli esiti importanti a livello di costume, a livello legislativo. Pensiamo a tutte le leggi degli anni 70, che sarebbero impensabili, senza questa presenza attiva delle donne e delle femministe soprattutto. Nel proseguo degli ultimi decenni del Novecento, le donne hanno fatto parte, sempre in modo crescente, anche delle istituzioni. hanno avuto ruoli in politica, nelle amministrazioni e in molte altre situazioni in cui finora vigeva soprattutto la voce maschile. Questo ha fatto sì che si perdesse in qualche modo che fosse percepita come una conquista delle donne e che quindi non ci fosse più bisogno di un movimento antagonista, irruente e alternativo, come era stato il movimento femminista. Naturalmente questa era solo una percezione e non è vero, perché, e lo dobbiamo vedere oggi, come se le donne non sono vigili, non sono sentinelle, non sono guardiane appunto delle politiche, delle pratiche, delle scelte economiche, delle scelte culturali, immediatamente corrono il rischio di un ritorno indietro anche nell'elementare difesa dei diritti. Tutto questo fa capire che oggi, come negli anni settanta e come anche prima, oggi c'è bisogno di una forte azione femminile, femminista direi, che proprio metta in luce le contraddizioni e le ambiguità, le inadeguatezze del modo di governare il mondo maschile e della cecità con cui queste classi dirigenti stanno portando, per esempio, pensiamo all'Europa, ma non solo in Europa e anche nel nostro paese, queste scelte mirate solo al profitto e in qualche modo all'interpretazione della politica come affermazione solo di potere e tutto questo sta veramente portandoci verso un tracollo, verso un disastro. La Casa delle Donne, in quanto luogo di autorevolezza, di esperienza, di saperi femminili, ha ancora molto da dire e da fare. Noi sappiamo benissimo, anzi questa è proprio la costruzione di un sapere femminile particolare, che le donne che si sottraggono alla violenza solo con altre donne possono trovare quella relazione che le aiuta poi a riprendersi in mano la loro vita. Le donne sono molte e diverse tra di loro per condizioni culturali, economiche, per scelte politiche, per fedi religiose. Quindi si dice che se le donne sanno bene tutto il mondo va meglio. Se noi investiamo sulle donne di sicuro il mondo andrà meglio e sarà migliore. Quindi l'invito alle politiche, alla cultura, alle scelte economiche è proprio di investire sulle donne e io direi appunto sulle giovani donne che sono quelle che più hanno pagato un prezzo della crisi sulla loro vita personale, sulla poca opportunità di scelta che hanno avuto e sul fatto che sulle loro spalle è stato scaricato il peso dei fallimenti delle generazioni precedenti. In preparazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne le donne della casa hanno promosso un progetto, Io sono mia. Qual è l'urgenza alla base dell'idea di questo progetto? Dallo slogan molto provocatorio, forte. Sicuramente è un vecchio slogan che non è stato più ripreso da circa 20-30 anni in cui dalle giovani alle meno giovani sento che si stanno ricominciando a riconoscere. È un progetto che sicuramente fra tante cose stavolta ha anche una rassegna improntata sul coraggio della scelta delle donne. Siamo quasi in stretta finale, mancano quattro appuntamenti. Stasera c'è Per amor vostro che è un film pluripremiato. è stato pochissimo distribuito, del resto tutti i film di questa rassegna sono stati molto premiati, molto apprezzati, pochissimo distribuiti e anche questo è il successo di questa rassegna. Vediamo che tantissime persone stanno venendo e siamo molto contenti di questo. Noi prima di ogni visione di film mandiamo una clip, la clip è sul tema di, quindi inerente al film. Subito dopo la clip c'è sempre l'introduzione di una persona che per noi è autorevole e ci piace che dica la sua. Sarà presentato da Laura Linda Sabatini che è una legislatrice che si è occupata per esempio anche adesso disegni di legge, legge sui bambini vittime di femminicidio. Ormai la rassegna è cominciata il 12 settembre, terminerà la fine di ottobre. Il riscontro quindi c'è stato, qual è il target, l'età delle persone che ha aderito a questa iniziativa? Senti direi fortunatamente è un target veramente molto molto diversificato. Ci fa piacere avere molte ragazze giovani che si riconoscono evidentemente in questo percorso che abbiamo cercato di suggerire, però ci sono anche persone più anziane, uomini che sposano questa causa. Abbiamo avuto delle presenze molto importanti direi come numeri. Diciamo sulle 850-900 presenze in totale e speriamo di continuare su questa linea. Il film è un po' un pretesto per trasmettere quale messaggio, volendo sintetizzarlo con una frase, con un'espressione? Diciamo che vorremmo che passasse il messaggio che noi donne non siamo vittime, ma dobbiamo avere la forza e ce l'abbiamo specialmente se stiamo tutte insieme, per rivoltarci e per uscire dalle maglie della violenza. Certo non è facile perché le istituzioni non ci seguono, insomma c'è ancora il patriarcato, molto molto forte, però secondo noi dare questo stimolo, far vedere che le donne, come si diceva una volta, con le donne possono, può essere un piccolo passo per andare un pochino avanti, visto che pare che torniamo sempre indietro.